Ma bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video, io sono Skellepub e oggi vi dirò delle informazioni sul mio canale di quando usciranno i video Allora iniziamo subito Lunedì porterò Fortnite delle Challenge Martedì un gameplay di Fortnite Mercoledì Fortnite guarda chi mi uccide Giovedì Fortnite creativa Venerdì Troll Sabato Tutorial Sempre se riesco a trovarne un po' E domenica vi lascio E' un gioco scelto da voi E proprio adesso vi lascio un sondaggio Quindi raga Scegliete voi il gioco Io lo metterò Tra Crunker.io Clash of Clans Brawl Stars Clash Royale E Roblox Ok Allora raga vi ricordo di iscriversi al canale Grazie dei 65 iscritti Arriviamo a 70 E per questo video vi diamo 5 like Ciao a tutti i nostri amici